Adesso ti spiego perché sei qui Sei qui perché ieri ho il Bernabeu Oh cazzo Hai fatto cagare Ma il problema principale è un altro Oh figa, mi hanno mandato il commissario in Champions Ma tu ti lavi mai i denti? Perché ti puzza il fiato? I giocatori si sono lamentati Ma che cazzo vuole questo? Il commissario è un dentista? Dai, dimmi la verità No, mai Marcello è stato male Gli sono venuti i conati di vomito Cerchio Ramos anche È stato male Anche adesso che sei qui è la fratella pesante E siamo distanti più di due metri Ma non ti preoccupare Per risolvere questo problema ho io la soluzione giusta per te Quale soluzione? Ho qui due caramelline con me Scegli in base i tuoi gusti Caramella blu Gusto balsamico Intenso, forte e deciso Caramella rossa Gusto al tamarindo Esotico, fruttato ma molto delicato Cazzo che scelta difficile Il tamarindo è buono Quasi quasi vado sul tamarindo Ma fa attenzione La caramella al tamarindo Ha un retro gusto di cannella A me personalmente fa un po' cagare Ti consiglio di bersi dietro un bicchiere d'acqua Cazzo, aveva ragione il pelato Fa proprio cagare Era meglio balsamica A te che piace il tamarindo? Segui Arbitro Orbu E metti un like alla pagina Grazie a tutti